Da dove venite? Dal Cadore, calazzo di Cadore Bussalle di Cadore E siete tifosi di? Bode Miller, you fool, aspetta Go fast, go Bode E come mai non fate tifo per gli italiani? Perché Bode è un mito È il numero uno È il numero uno, fa sempre spettacolo in qualsiasi situazione È la prima volta che siete a Gardena? Sì Per cui è il campo? Stanzi E cosa fai a fare il grande dolce Rappar? E' un'ottima volta che si trovi L'agrosse ringe È il primo tempo che siete qui? Sì C'è 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 L'abbai C'è E come ti piace? Bene. Quali credo di questo rinno di oggi? Cus. Per cui ho prendo i dimenticoli? Staudi! Da prognuno! Staudi! Staudis Fanclub! Vittoria! Sulla sono un'occhio! Wieviel leitze ne doveri in un Fanclub? 30 leitze ne doveri! 90! Es ist wahnsinnig kalt da, was tut man denn gegen die Költe? Das ist ja blöd, heuer ist warm, es ist der kalteste Zielraum der Welt, aber heuer ist richtig warm. Wir sind heiß aufs Rennen!